Anna, ho una notizia entusiasmante. Voglio farti una proposta in un modo divertente e unico. Davvero? Sembra intrigante. Come pensi di farlo? Ho fatto un brainstorming e penso che un approccio divertente e non convenzionale sarebbe perfetto. Adoro la tua creatività. Dimmi di più sulla tua idea. Beh, ho pensato di inscenare una proposta di scherzo che prevedesse un falso arresto da parte della polizia. Questo è decisamente diverso. Sono curioso di conoscere i dettagli. Ho già parlato con alcuni amici che sono a bordo per aiutarmi a organizzare lo scherzo. È fantastico avere amici che ci supportano. Questa proposta sarà memorabile. Voglio che sia un momento che ti faccia ridere e crei un ricordo duraturo. Mi fido del tuo senso dell'umorismo, John. Assicurati solo che sia tutto divertente. Assolutamente, Anna. Voglio renderti felice, non offendere nessuno. Anche la sicurezza è una priorità. Lo apprezzo. Assicuriamoci che tutto sia ben pianificato ed eseguito senza intoppi. Sono contenta che tu ne sia entusiasta, Anna. Sarà un'avventura che ricorderemo per sempre. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà il tutto. La storia della nostra proposta sarà sicuramente unica nel suo genere. Mi assicurerò di registrare l'intero scherzo in video, così potremo rivivere il momento divertente più tardi. Questa è un'ottima idea. Possiamo condividerlo con i nostri cari e custodirne il ricordo per sempre. Chissà, forse la nostra proposta di scherzo diventerà persino virale online. Potrebbe fare scalpore. Sarebbe una bella storia da raccontare. Ma a prescindere, sono felice di stare con te, John. Va bene, Anna, ecco il piano. Voglio creare una proposta scherzosa che preveda un falso arresto da parte della polizia. Un falso arresto da parte della polizia? Sembra intenso. Come lo immagini? Beh, pensavo che saremmo potuti andare a fare una passeggiata nel parco quando all'improvviso arriva un'auto della polizia con le luci lampeggianti. Questo attirerebbe sicuramente la mia attenzione. Cosa succede dopo? Gli agenti di polizia si avvicineranno a noi e mi diranno che corrispondo alla descrizione del sospettato che stanno cercando. Oh mio Dio! Posso solo immaginare la mia reazione in quel momento. Sembra snervante. Non preoccuparti, fa tutto parte dello scherzo. Gli agenti mi arresteranno, ammanettato e tutto il resto. Sarà difficile non farsi prendere dal panico, anche sapendo che è una messa in scena. Ma sono pronto per la sfida. Questo è lo spirito. Ci assicureremo che gli agenti siano amichevoli e ti assicureremo che è solo uno scherzo. Questo mi aiuterebbe sicuramente a calmare i nervi. Confido che tu lo renda il più confortevole possibile. Assolutamente, Anna. L'obiettivo principale è farvi ridere e creare un ricordo divertente per la nostra proposta. Non ho dubbi che sarà indimenticabile. Ma assicuriamoci di non causare problemi seri. Sicuramente, la sicurezza è fondamentale. Faremo in modo che tutto sia ben coordinato e non causi alcun danno. Apprezzo la tua permura, John. È essenziale trovare il giusto equilibrio tra umorismo e cautela. Non potrei essere più d'accordo. Pianificheremo meticolosamente ogni dettaglio per garantire un'esperienza fluida e piacevole. Sono entusiasta di vedere come tutto andrà a finire. Questa proposta di scherzo sarà una storia da ricordare. Anna, ho chiesto aiuto ai nostri amici per rendere la proposta dello scherzo ancora più memorabile. Oh, è fantastico! Sarà fantastico avere il loro supporto e coinvolgimento. Quali sono i loro ruoli? Bene, ho assegnato compiti specifici a ciascuno di essi per assicurarmi che tutto proceda senza intoppi. Questa è una pianificazione intelligente. Cosa devono fare? Un amico sarà incaricato di coordinarsi con gli agenti di polizia e di assicurarsi che svolgano i loro ruoli in modo convincente. Questo è fondamentale perché lo scherzo sia credibile. È bello avere qualcuno che si occupa di questo aspetto. Un altro amico si occuperà di filmare l'intero scenario in modo discreto, catturando le nostre reazioni e i momenti divertenti. Averlo in video sarà un ottimo modo per rivivere l'esperienza e condividerla con gli altri. Esattamente! Vogliamo creare un ricordo duraturo di questo momento speciale. E il resto dei nostri amici? Anche loro hanno ruoli specifici? Sì, un paio di amici si travestiranno da astanti, aumentando il realismo della situazione. Oh, è intelligente! Renderà lo scherzo ancora più convincente se ci sono testimoni in giro. Infine, abbiamo un amico che si occuperà di coordinare i tempi e garantire che tutti siano nel posto giusto al momento giusto. Sembra un lavoro di squadra ben organizzato. Sono grato per il coinvolgimento dei nostri amici. Anch'io, Anna. Sono entusiasti di farne parte e di contribuire a renderla una proposta memorabile per noi. Sono contento che abbiamo amici così solidali e creativi. Questa proposta di scherzo sarà epica. Insieme, con il loro aiuto, creeremo un momento divertente e indimenticabile che custodiremo per sempre. Non vedo l'ora di vedere come andrà tutto insieme. Assicuriamoci di esprimere la nostra gratitudine ai nostri amici per il loro contributo. Anna, c'è stata una svolta inaspettata nel nostro piano di proposte di scherzi. Veri agenti di polizia si sono presentati durante il finto arresto. Oh no! Non è quello che ci aspettavamo. Cosa è successo? Sembra che qualcuno nelle vicinanze abbia chiamato la polizia, scambiando il nostro scherzo per un vero crimine in corso. Questo è un peccato. Spero che tutto sia stato risolto senza malintesi. Fortunatamente, la situazione è stata rapidamente chiarita. Io e i nostri amici abbiamo spiegato che si trattava solo di un'innocua proposta di scherzo. Mi fa piacere sentirlo. Sarebbe potuto andare molto peggio se il malinteso si fosse aggravato. Assolutamente. Gli agenti di polizia sono stati comprensivi quando hanno capito che era tutta una questione di divertimento. È un buon promemoria che dobbiamo essere consapevoli delle nostre azioni, e di come possono essere percepite dagli altri. Sicuramente. Non intendevamo causare panico o preoccupazione, quindi è importante considerare il potenziale impatto dei nostri scherzi. Apprezzo il tuo punto di vista, John. Dovremmo sempre dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutte le persone coinvolte. Hai ragione, Anna. Ho imparato da questa esperienza e sarò più cauto nel pianificare le sorprese future. Questo è un approccio saggio. Trasformiamo questa svolta inaspettata degli eventi in una lezione per il futuro. Assolutamente. La nostra proposta scherzosa potrebbe non essere andata esattamente come previsto, ma serve a ricordarci di dare priorità alla sicurezza e di considerare le potenziali conseguenze. Sono felice che possiamo riflettere su questo insieme e crescere. Il nostro amore e la nostra felicità dovrebbero essere sempre al primo posto. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La nostra relazione è più importante di qualsiasi scherzo o sorpresa elaborata. Finché siamo insieme, possiamo creare momenti gioiosi e significativi, indipendentemente dalle circostanze. Anna, è scoppiato il caos mentre cercavamo di spiegare la situazione agli scettici agenti di polizia durante lo scherzo. Oh no, deve essere stato un momento piuttosto impegnativo e confuso. Come hanno reagito? All'inizio, gli ufficiali erano comprensibilmente scettici e cauti. Stavano prendendo sul serio la situazione. Posso immaginare la loro preoccupazione, soprattutto considerando il malinteso iniziale. Come siamo riusciti a spiegare tutto? Siamo rimasti calmi e collaborativi, facendo del nostro meglio per comunicare che si trattava di una proposta di scherzo innocua andata male. È importante mantenere la calma in tali situazioni per garantire una comunicazione efficace. Come hanno reagito gli agenti? Gradualmente iniziarono a rendersi conto che si trattava davvero di un malinteso. Anche i nostri amici ci hanno aiutato testimoniando per noi e spiegando lo scherzo. Sono contento che i nostri amici fossero lì per sostenerci e chiarire la situazione. Deve aver fatto la differenza. La loro testimonianza ha sicuramente aiutato, Anna. Gli ufficiali iniziarono a capire che tutto doveva essere un momento spensierato e gioioso. Questo è un sollievo. Sono grato che alla fine la situazione sia stata risolta senza gravi conseguenze. Anch'io, Anna. È stato un campanello d'allarme per noi, per essere più attenti e cauti nei nostri scherzi, per evitare inutili confusioni o allarmismi. Assolutamente. Dovremmo sempre pensare al potenziale impatto che le nostre azioni possono avere sugli altri, anche se le nostre intenzioni sono innocue. Hai ragione. Abbiamo imparato una lezione importante da questa esperienza e saremo più attenti in futuro. Fa tutto parte della nostra crescita come individui e come coppia. Cogliamo l'occasione per riflettere e continuare a migliorare. Non potrei essere più d'accordo, Anna. L'amore e il rispetto reciproco dovrebbero sempre guidarci nel fare scelte responsabili. Insieme, creeremo momenti significativi e gioiosi tenendo a mente il benessere e la comprensione degli altri. Esattamente, Anna. La nostra relazione si basa sull'amore, l'empatia e la comprensione. Continuiamo a custodirlo e nutrirlo. Sono grato di averti al mio fianco, John. Andiamo avanti e rendiamo ogni giorno pieno di risate e felicità genuina. Anna, mentre scoppiava il caos tra gli agenti di polizia, una piccola folla si è radunata e ha iniziato a riprendere l'incidente sui propri smartphone. Oh no, quindi l'intera situazione è stata registrata e condivisa sui social media? Sì, sfortunatamente. Non ci è voluto molto perché le persone iniziassero a pubblicare video e condividere l'incidente online. È piuttosto travolgente. Spero che i video ritraggano la situazione in modo accurato, e non causino alcun danno. Possiamo solo sperare che i video mostrino il contesto completo di ciò che è accaduto e che le persone capiscano che si è trattato di un malinteso. È importante ricordare che i video possono essere fuorvianti, quindi dovremmo essere preparati a varie interpretazioni. Assolutamente. Dobbiamo rimanere positivi e concentrarci sull'amore e sull'intenzione dietro la nostra proposta di scherzo. Sono d'accordo non lasciamo che l'attenzione o il potenziale giudizio ci influenzino. Il nostro amore è ciò che conta davvero. Precisamente, Anna. Conosciamo la verità e finché abbiamo l'amore e il sostegno reciproci, possiamo affrontare qualsiasi cosa. Questo è lo spirito, John. Supereremo ogni negatività e continueremo a custodire i ricordi che creiamo insieme. Possiamo sfruttare questa opportunità per diffondere positività e risate, anche se le circostanze fossero inaspettate. Mi piace questa prospettiva. Accogliamola e usiamo la nostra esperienza per portare gioia agli altri. Esattamente. Ci concentreremo sul trasformare questo incidente in una fonte di umorismo e connessione piuttosto che in qualcosa di negativo. La nostra storia d'amore è unica e, anche se questo capitolo ha preso una piega inaspettata, fa ancora parte del nostro viaggio. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Accogliamola, impariamo da essa e continuiamo a scrivere la nostra storia con risate e amore. Insieme affronteremo tutte le sfide che incontreremo e il nostro amore prevarrà sempre. Anna, sfortunatamente, il video della nostra proposta di arresto andata male è diventato virale e ha attirato milioni di visualizzazioni. Wow, è piuttosto inaspettato. Non avrei mai immaginato che avrebbe attirato così tanta attenzione. Sembra che il nostro scherzo abbia attirato l'interesse di molte persone e ora è ampiamente condiviso su varie piattaforme. Spero che il video venga visto in una luce positiva, considerando il contesto e il fatto che si trattava di uno scherzo innocuo. È difficile prevedere come reagiranno le persone, ma possiamo sperare che la maggior parte capisca che è stato pensato per essere un momento spensierato. Sono d'accordo dovremmo tenere presente che le nostre intenzioni erano pure e che non abbiamo mai avuto intenzione di causare danni o angoscia. Assolutamente. Concentriamoci sull'amore e sulla gioia che hanno ispirato lo scherzo, piuttosto che farci prendere dall'attenzione virale. È importante rimanere con i piedi per terra e non lasciare che le opinioni degli altri definiscano la nostra relazione o i bei ricordi che condividiamo. Hai ragione, Anna. Il nostro amore è ciò che conta davvero e non dovremmo lasciare che il video virale lo oscuri. Sfruttiamo questa occasione per diffondere positività e risate, anche se le circostanze fossero inaspettate. È un'ottima mentalità, Anna. Possiamo abbracciare l'attenzione e usarla per ispirare gli altri a creare momenti gioiosi nella propria vita. Esattamente. Se il nostro video può far sorridere qualcuno o ricordargli di apprezzare l'amore nelle proprie relazioni, allora ne vale la pena. La nostra storia d'amore è unica e questo video virale è solo un altro capitolo del nostro viaggio. Sfruttiamolo al meglio e continuiamo a crescere insieme. Sono grato di averti al mio fianco, John. Qualunque cosa accada, il nostro amore risplenderà sempre. E ti sono grata, Anna. Il nostro amore è forte e insieme possiamo affrontare tutte le sfide che incontriamo. Restiamo positivi, abbracciamo l'attenzione e continuiamo a creare bellissimi ricordi pieni di risate e amore. Anna, sembra che l'incidente con la nostra proposta di scherzo abbia scatenato un acceso dibattito online. Alcune persone lo trovano divertente, mentre altri lo criticano come irrispettoso. Avevo previsto che ci sarebbero state opinioni diverse, data la natura dell'incidente. È un peccato che abbia portato a una risposta così divisiva. Sì, è scoraggiante vedere i commenti e le critiche negative. Non abbiamo mai avuto intenzione di mancare di rispetto a nessuno o causare danni. Dovremmo ricordare che l'umorismo può essere soggettivo, e ciò che può essere divertente per alcuni può essere visto come offensivo da altri. È vero, Anna. È importante rispettare e considerare le diverse prospettive, anche se non avevamo previsto le forti reazioni. Concentriamoci sulla comprensione delle preoccupazioni espresse da chi la trovata è irrispettosa e impariamo da questa esperienza. Assolutamente. Possiamo cogliere questa opportunità per riflettere sulle nostre azioni e considerare come possono essere percepite dagli altri. È importante riconoscere e assumersi la responsabilità di qualsiasi impatto negativo non intenzionale che le nostre azioni potrebbero aver avuto. Sono d'accordo, Anna. La nostra intenzione non è mai stata quella di offendere o mancare di rispetto a nessuno, e possiamo imparare da questa situazione per essere più attenti in futuro. Impegniamoci in un dialogo costruttivo con coloro che sono preoccupati, e ci scusiamo se le nostre azioni sono state davvero dannose. È un approccio maturo, Anna. È importante ascoltare, imparare e crescere grazie al feedback, anche se è difficile da ascoltare. L'amore e il rispetto per gli altri dovrebbero sempre guidare le nostre azioni, ed è essenziale considerare le potenziali conseguenze dei nostri scherzi. Hai ragione, Anna. Lo prenderemo come una lezione e, andando avanti, saremo più consapevoli di come le nostre azioni possono essere percepite dagli altri. La nostra relazione si basa sull'amore e sulla comprensione, e possiamo usare questa esperienza per continuare a crescere insieme. Sono grata di averti come partner, Anna. Insieme affronteremo questa situazione con empatia e impareremo da essa. Il nostro amore prevarrà sempre, John, e con questo potremo superare tutte le difficoltà che incontreremo. Concentriamoci sulla diffusione della positività e della comprensione. Anna, sembra che le testate giornalistiche locali abbiano saputo della nostra storia e vogliano intervistarci per avere il nostro punto di vista. Questo è inaspettato. Sembra che l'incidente abbia tirato ancora più attenzione di quanto ci aspettassimo. Sì, è un po' travolgente, ma potrebbe anche essere un'opportunità per condividere la nostra versione della storia e risolvere eventuali dubbi. Sono d'accordo e è importante affrontare queste interviste con onestà e apertura, rispettando al contempo i diversi punti di vista. Dovremmo cogliere l'occasione per sottolineare che la nostra intenzione non è mai stata quella di offendere o mancare di rispetto a nessuno. Assolutamente. Esprimiamo il nostro rammarico se le nostre azioni hanno causato angoscia e rassicuriamo le persone sul fatto che abbiamo imparato da questa esperienza. Durante le interviste, dovremmo anche sottolineare l'importanza di considerare il potenziale impatto di scherzi e sorprese sugli altri. È fondamentale comunicare che apprezziamo l'empatia e la comprensione, e che saremo più attenti in futuro. Possiamo anche utilizzare questa piattaforma per incoraggiare conversazioni positive sull'umorismo, i confini e l'importanza del consenso. Questa è un'ottima idea. Trasformiamo questa situazione in un'opportunità per promuovere modi rispettosi e responsabili di creare gioia. Il nostro amore e rispetto per gli altri dovrebbero essere in prima linea nel nostro messaggio e dovremmo sottolineare che siamo disposti a imparare e crescere. Sono grato di averti al mio fianco, John. Insieme, possiamo affrontare queste interviste con onestà e integrità. E ti sono grata, Anna. Il nostro amore ci guiderà durante queste interviste e ci sforzeremo di avere un impatto positivo con le nostre parole. Sfruttiamo questa opportunità per promuovere la comprensione e l'empatia, e per ricordare alle persone che amore e risate possono coesistere con rispetto e considerazione. Assolutamente, Anna. La nostra storia può servire a ricordarci che anche quando le cose non vanno come previsto, possiamo comunque imparare e crescere dall'esperienza. Il nostro amore risplenderà, John, e con questo potremo affrontare tutte le sfide che incontreremo. Durante l'intervista, voglio assicurarmi di sottolineare le mie intenzioni alla base della proposta di scherzo. Il mio obiettivo principale era creare un momento unico e memorabile per Anna che la facesse ridere. Questo è importante, John. È fondamentale far capire che l'intenzione alla base dello scherzo era legata all'amore e alla creazione di ricordi gioiosi. Esattamente, Anna. Voglio sottolineare che il mio amore per Anna è stato la forza trainante dello scherzo e che non ho mai avuto intenzione di causare danni o angoscia. È essenziale sottolineare che l'umorismo gioca un ruolo significativo nella nostra relazione, e che spesso usiamo gesti spensierati per portare gioia nella vita reciproca. Mi assicurerò di esprimere quanto apprezzo le risate e la felicità di Anna e che lo scherzo doveva essere un momento giocoso e spensierato. Dobbiamo anche riconoscere che lo scherzo non è andato come previsto, e che ci assumiamo la responsabilità di eventuali malintesi o conseguenze indesiderate. Assolutamente. È fondamentale dimostrare che siamo disposti a imparare da questa esperienza ed essere più attenti a come le nostre azioni possono essere percepite dagli altri. Ricordiamo anche che apprezziamo l'empatia e la comprensione, e che vogliamo incoraggiare gli altri a considerare il potenziale impatto delle loro azioni. Sono completamente d'accordo, Anna. Questa è un'opportunità per noi di promuovere modi rispettosi e responsabili di creare gioia e risate. Condividendo la nostra storia e le nostre intenzioni, possiamo contribuire a una conversazione più sfumata sull'equilibrio tra umorismo e considerazione per gli altri. La nostra storia d'amore è unica e questo incidente è solo una parte del nostro viaggio. Usiamola come un'opportunità per diffondere positività e comprensione. Insieme, possiamo affrontare queste interviste con onestà, amore e un sincero desiderio di creare un impatto positivo. Sono grata di averti al mio fianco, Anna. Il nostro amore ci guiderà durante queste interviste e ci impegneremo a fare una differenza significativa. E ti sono grato, John. Il nostro amore è forte e grazie a questo possiamo affrontare qualsiasi sfida con grazia e autenticità. Affrontiamo queste interviste con fiducia, sapendo che le nostre intenzioni erano radicate nell'amore e nelle risate. La nostra storia merita di essere ascoltata. Assolutamente, John. Condividiamo il nostro punto di vista, diffondiamo gioia, e ispiriamo gli altri a creare momenti indimenticabili pieni di amore e risate. Anna, sono felice che tu mi abbia perdonato per la proposta dello scherzo. So che è stato uno shock per te e mi dispiace davvero per l'angoscia che può aver causato. John, mi ci è voluto del tempo per capire cosa è successo, ma capisco che le tue intenzioni fossero radicate nel tuo senso dell'umorismo e mi facevano ridere. Ti sono grata per il tuo perdono, Anna. Il mio senso dell'umorismo ha sempre fatto parte della nostra relazione e non ho mai voluto che causasse danni. So questo di te, John. La tua capacità di farmi ridere è una delle cose che amo di più di te, e non voglio che questo incidente la oscuri. Sono contenta che tu la veda così, Anna. Non voglio che le nostre risate condivise e vengano oscurate da un passo falso momentaneo. Detto questo, è importante per entrambi imparare da questa esperienza ed essere più consapevoli di come le nostre azioni possono essere percepite dagli altri. Assolutamente, Anna. Dovremmo sempre considerare il potenziale impatto del nostro umorismo e assicurarci che sia in linea con il rispetto e la considerazione per gli altri. Confido che tu abbia imparato da questa esperienza e apprezzo la tua volontà di crescere e di essere più consapevole. Grazie, Anna. Il tuo perdono significa moltissimo per me e prometto di essere più consapevole delle potenziali conseguenze dei miei scherzi in futuro. Usiamo questo incidente come promemoria per continuare a promuovere una relazione basata sulla comprensione, l'amore e il rispetto reciproco. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Il nostro amore è forte e insieme possiamo affrontare tutte le sfide che incontriamo. Il nostro senso dell'umorismo condiviso è una parte bellissima della nostra relazione, ed è importante che continuiamo ad abbracciarlo mentre siamo consapevoli dei sentimenti degli altri. Sono grata di averti al mio fianco, Anna. Il tuo perdono e la tua comprensione riaffermano la forza del nostro amore. E ti sono grato, John. Andiamo avanti, apprezzando le nostre risate e usandole per creare gioia mentre consideriamo i sentimenti di chi ci circonda. Assolutamente, Anna. Il nostro amore prevarrà sempre, e prometto di farvi ridere in modi che portino gioia a entrambi, rispettando i confini degli altri. È tutto quello che posso chiedere, John. Continuiamo a creare bellissimi ricordi pieni di amore, risate e comprensione. Anna, sembra che la frenesia mediatica che circonda la nostra storia si stia intensificando. L'attenzione che sta ricevendo va oltre quella che avevamo previsto. Sì, sta diventando piuttosto travolgente. La storia ha colpito le persone e sta attirando più attenzione di quanto avremmo potuto immaginare. Dobbiamo prepararci a un maggiore controllo e assicurarci di gestire la situazione con grazia e integrità. Concordato. È importante ricordare che la nostra storia ha toccato un nervo scoperto molte persone, che hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni. Dovremmo essere preparati a una serie di reazioni e capire che non tutti vedranno le nostre intenzioni alla stessa luce. Restiamo fedeli a noi stessi e continuiamo a sottolineare che il nostro amore e il nostro umorismo sono stati al centro delle nostre azioni, anche se alcuni potrebbero non capirlo o apprezzarlo appieno. Dovremmo anche cogliere l'occasione per rispondere a qualsiasi preoccupazione o critica che sia stata sollevata e dimostrare che siamo aperti all'ascolto e all'apprendimento. È fondamentale avvicinarsi a questa intensa attenzione dei media con umiltà e mentalità aperta. Dobbiamo essere disposti a riflettere sulle nostre azioni e a crescere grazie a questa esperienza. Possiamo usare questa piattaforma per promuovere discussioni sane su umorismo, confini e consenso e incoraggiare l'empatia e la comprensione. In mezzo alla frenesia, non perdiamo di vista i nostri valori e l'amore che ci ha uniti. La nostra relazione è molto più di questo incidente. Assolutamente, Anna. Il nostro amore ci guiderà attraverso questa tempesta e ne usciremo più forti e resistenti. Sosteniamoci a vicenda in questo momento difficile, e restiamo concentrati sulla diffusione di positività e comprensione, anche di fronte alle avversità. Sono grata di averti come partner, Anna. Insieme, possiamo superare questa tempesta e continuare a ispirare gli altri con il nostro amore e la nostra resilienza. Il nostro amore sarà un faro di luce in mezzo al caos, John. Restiamo fedeli a noi stessi, e lasciamo trasparire la positività e la comprensione che condividiamo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Con l'amore come fondamento, affronteremo questa crescente attenzione dei media con grazia e integrità. Wow, è surreale pensare che la nostra storia abbia raggiunto quel livello di interesse. Dovremmo considerare attentamente in quali programmi vogliamo apparire e come intendiamo affrontare queste interviste. Assolutamente. Dovremmo scegliere spettacoli in linea con i nostri valori e fornire una piattaforma per discussioni costruttive. Diamo priorità agli spettacoli che favoriscono un dialogo aperto, e promuovono l'empatia e la comprensione. È importante che il nostro messaggio venga trasmesso in modo ponderato e rispettoso. Dovremmo anche prepararci per una serie di domande e opinioni da parte dei padroni di casa e del pubblico. È essenziale rimanere composti e articolare le nostre prospettive con grazia. Concordato. Dovremmo essere pronti ad affrontare qualsiasi dubbio o critica che possa sorgere e sfruttare queste opportunità per promuovere ulteriormente conversazioni sane sull'umorismo, i limiti e il consenso. La nostra intenzione dovrebbe essere quella di condividere la nostra storia, esprimere il nostro rammarico per eventuali conseguenze indesiderate e sottolineare l'importanza dell'amore, del rispetto e della comprensione nelle relazioni. Cogliamo l'occasione anche per evidenziare le lezioni che abbiamo imparato, e come intendiamo crescere da questa esperienza. È importante dimostrare che siamo disposti ad ascoltare ed evolverci. Durante le interviste, dovremmo essere aperti e onesti sulle nostre intenzioni, sottolineando che il nostro obiettivo era creare un momento di risate e gioia per te, Anna. Possiamo anche utilizzare queste piattaforme per incoraggiare gli altri a considerare l'impatto delle loro azioni su coloro che li circondano, e per promuovere la gentilezza e l'empatia nelle loro relazioni. È fondamentale affrontare queste apparizioni nei talk show con umiltà e un sincero desiderio di contribuire positivamente alla conversazione. Davvero, John? La nostra storia d'amore è diventata un argomento di interesse pubblico, e abbiamo la responsabilità di utilizzare questa piattaforma per promuovere la comprensione e l'empatia. Sosteniamoci a vicenda durante questo processo e ancoriamoci al nostro amore e ai nostri valori condivisi. Insieme, possiamo affrontare queste apparizioni nei talk show con grazia e integrità. Sono grato di averti al mio fianco, John. Con l'amore come bussola, avremo un impatto significativo con le nostre parole e azioni. Anna, mentre accettiamo queste apparizioni nei talk show, assicuriamoci di mostrare il nostro umorismo e l'amore che proviamo l'uno per l'altro. È un'opportunità per condividere il nostro io autentico con il pubblico. Assolutamente, John. Il nostro umorismo è sempre stato una parte significativa della nostra relazione, e dovremmo farlo risplendere durante queste apparizioni. Non esitiamo a condividere aneddoti spensierati e momenti di risate che riflettono il lato gioioso della nostra relazione. Possiamo usare il nostro umorismo per rompere il ghiaccio e creare un'atmosfera calda e coinvolgente durante le interviste. La risata ha un modo per connettere le persone. Precisamente, Anna. Mettendo in mostra il nostro amore e il nostro umorismo, possiamo dimostrare che la nostra relazione è costruita su solide fondamenta di risate, fiducia e rispetto reciproco. E' inoltre essenziale evidenziare gli aspetti positivi del nostro viaggio insieme le elezioni che abbiamo tratto da questo incidente. Assolutamente. Concentriamoci sulla crescita e sullo sviluppo personale derivanti da questa esperienza, sottolineando come abbia rafforzato il nostro legame. Possiamo condividere storie su come il nostro amore e il nostro umorismo ci hanno aiutato ad affrontare le sfide, e a portare gioia nella nostra vita e in quella di chi ci circonda. E non dimentichiamo di esprimere gratitudine reciproca e per il sostegno che abbiamo ricevuto dai nostri cari e dal pubblico. La gratitudine è un'emozione potente e può amplificare ulteriormente l'amore e la gioia che desideriamo trasmettere durante queste apparizioni. Sfruttiamo questa opportunità anche per diffondere positività e ispirare gli altri ad abbracciare l'umorismo, l'amore e la comprensione nelle proprie relazioni. Essendo autentici e fedeli a noi stessi, possiamo dimostrare che amore e umorismo possono coesistere armoniosamente, creando una partnership bella e appagante. Sono entusiasta di condividere la nostra storia, il nostro amore e il nostro umorismo con il pubblico. Sfruttiamo al massimo questa opportunità per lasciare un'impressione duratura. Insieme possiamo avere un impatto memorabile, John. Mettiamo in mostra il nostro umorismo e il nostro amore, lasciando al pubblico un senso di gioia e ispirazione. Anna, è incredibile vedere come la nostra storia abbia attirato l'attenzione di scrittori e comici. Sembra che ci stiano offrendo l'opportunità di collaborare a progetti comici. È allo stesso tempo inaspettato ed emozionante. Il nostro senso dell'umorismo ha conquistato le persone, ed è meraviglioso che vogliano lavorare con noi. Dovremmo considerare attentamente queste opportunità e assicurarci che siano in linea con i nostri valori e il tipo di commedia a cui vogliamo essere associati. Assolutamente. Diamo priorità ai progetti che promuovono la positività, la gentilezza e l'inclusività, pur consentendoci di mettere in campo il nostro inconfondibile senso dell'umorismo. È importante collaborare con scrittori e comici che condividono la nostra visione e comprendono le lezioni che abbiamo imparato dalle nostre esperienze. Dovremmo anche cercare progetti che ci consentano di esplorare diversi stili e formati comici, ampliando i nostri orizzonti creativi rimanendo fedeli a noi stessi. Questa potrebbe essere l'occasione per portare risate e gioia a un pubblico più ampio, utilizzando anche la commedia come mezzo per diffondere messaggi di empatia e comprensione. Facciamo in modo che tutti i progetti che prendiamo in considerazione promuovano relazioni sane, rispettino i confini e diano priorità al consenso. La commedia può essere un potente strumento per un cambiamento positivo. Possiamo anche utilizzare queste collaborazioni per continuare a imparare e crescere come individui e come coppia. Lavorare con professionisti esperti della commedia può offrire nuove intuizioni e prospettive. Questa è un'entusiasmante opportunità per sviluppare ulteriormente le nostre capacità comiche e portare più risate nel mondo. Abbracciamola con una mente aperta e la volontà di imparare. Sono grata di averti come partner, Anna. Insieme, possiamo affrontare queste collaborazioni e usarle come piattaforma per avere un impatto positivo attraverso l'umorismo. E ti sono grato, John. Affrontiamo questi progetti comici con entusiasmo e impegno a diffondere risate, amore e comprensione. Con il nostro senso dell'umorismo condiviso e le lezioni che abbiamo imparato, possiamo creare una commedia che non solo diverte, ma anche eleva e ispira. Cogliamo queste opportunità e continuiamo a far ridere le persone promuovendo la gentilezza e l'empatia. Non vedo l'ora di vedere cosa possiamo ottenere insieme. È incredibile, John. Adoro il modo in cui il nostro umorismo ha risuonato le persone e portato gioia nella loro vita. Abbracciamo questa etichetta e continuiamo a diffondere risate. Assolutamente. Essere conosciuti come la coppia dei burloni significa che abbiamo la possibilità di far sorridere le persone e rallegrare la loro giornata con le nostre imprese comiche. Continuiamo a esplorare diverse idee di scherzi e concetti comici che sono in linea con i nostri valori, e portano felicità agli altri. È importante mantenere un approccio positivo e inclusivo nei nostri contenuti. Dovremmo anche prestare attenzione al consenso e assicurarci che i nostri scherzi siano innocui e rispettosi nei confronti di tutte le persone coinvolte. Le risate non dovrebbero mai andare a scapito del benessere di qualcuno. Sono d'accordo, John. È fondamentale trovare un equilibrio tra umorismo ed empatia. Creiamo contenuti che portino gioia promuovendo la comprensione e la gentilezza. Possiamo usare la nostra piattaforma per ispirare gli altri a trovare umorismo nelle loro vite e relazioni, ricordando loro il potere delle risate e dei momenti di gioia condivisi. E non dimentichiamo di coinvolgere il nostro pubblico nel processo. Possiamo incoraggiare la loro partecipazione e il loro coinvolgimento, facendoli sentire parte del nostro viaggio comico. Collaborare con il nostro pubblico può promuovere un senso di comunità e rafforzare il legame che abbiamo con loro. Il loro supporto e feedback sono inestimabili. Con ogni video o scherzo divertente che creiamo, cogliamo anche l'occasione per condividere un messaggio positivo o evidenziare una causa importante. La commedia può essere un veicolo di cambiamento. Assolutamente, Anna. Infondendo ai nostri contenuti uno scopo e un significato, possiamo avere un impatto duraturo oltre a far ridere le persone. Sono entusiasta di continuare questo viaggio come coppia di burloni e creare contenuti divertenti che portino gioia, diffondano positività e incoraggino gli altri ad abbracciare l'umorismo nella loro vita. E sono felice di averti come partner in questa avventura, Anna. Insieme, continueremo a far sorridere le persone e a ricordare loro il potere della risata. Con amore, umorismo e impegno per la gentilezza, non c'è limite a ciò che possiamo ottenere. Continuiamo a creare contenuti divertenti e a rendere il mondo un posto più luminoso. Anna, sembra che la nostra proposta di scherzo abbia ispirato alcune persone a imitarla. Sebbene sia interessante vedere l'impatto del nostro umorismo, dobbiamo essere consapevoli del potenziale di situazioni sia divertenti che controverse che possono sorgere. È vero, John. Sebbene l'imitazione possa essere lusinghiera, dovremmo essere consapevoli dell'influenza che le nostre azioni possono avere e delle potenziali conseguenze che possono comportare. È importante ricordare che la nostra proposta di scherzo era un atto attentamente pianificato e consensuale tra noi due. Altri che tentano di imitarla potrebbero non comprendere appieno il contesto o i confini coinvolti. Assolutamente. Dovremmo sottolineare l'importanza del consenso e garantire che eventuali imitazioni siano fatte in modo rispettoso e consensuale. È fondamentale dare priorità al benessere e ai sentimenti di tutte le parti coinvolte. Possiamo usare queste situazioni come opportunità per educare e sensibilizzare sul consenso, sui limiti e sul potenziale impatto dell'imitazione di scherzi o atti che potrebbero avere conseguenze non intenzionali. Incoraggiamo il dialogo aperto e forniamo indicazioni su come impegnarsi in un umorismo innocuo e rispettoso. Possiamo sottolineare la necessità di una comunicazione chiara e di una considerazione per i sentimenti di tutti. Allo stesso tempo, è essenziale per noi risolvere eventuali controversie o incomprensioni che possono derivare dalle imitazioni. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni e assicurarci che siano comprese correttamente. La trasparenza e la comunicazione aperta saranno fondamentali per affrontare queste situazioni. Affrontando direttamente le controversie o i malintesi, possiamo contribuire a chiarire qualsiasi confusione e mitigare potenziali danni. È anche importante per noi imparare da queste esperienze e valutare in che modo le nostre azioni possono aver contribuito ad esse. Possiamo utilizzare queste conoscenze per affinare ulteriormente il nostro approccio e garantire che i nostri contenuti promuovano l'empatia, la comprensione e l'umorismo positivo. Ricordiamo che la nostra intenzione è sempre stata quella di portare gioia e lisate, ma è fondamentale essere consapevoli dell'impatto e delle potenziali conseguenze delle nostre azioni. Possiamo usare queste situazioni come opportunità di apprendimento e trarne vantaggio. Con la nostra piattaforma e la nostra influenza, abbiamo l'opportunità di plasmare la narrazione e incoraggiare un umorismo responsabile. Sfruttiamo questa occasione per creare un impatto positivo e promuovere una cultura della commedia rispettosa e inclusiva. Sono grato di poter riflettere insieme su queste situazioni, John. Affrontandole con empatia, comprensione e impegno per la crescita, possiamo affrontare le sfide che si presentano, e continuare a creare contenuti divertenti che portino gioia senza causare danni. Anna, con la nostra ritrovata fama, utilizziamo questa piattaforma per promuovere cause che ci stanno veramente a cuore. Una delle cause che mi viene in mente è la sensibilizzazione agli scherzi pratici andati male. Assolutamente, John. È essenziale far luce sulle potenziali conseguenze negative degli scherzi pratici ed educare gli altri all'umorismo responsabile. Le battute pratiche possono essere divertenti se fatte in modo sicuro e consensuale. Tuttavia, ci sono casi in cui possono andare male e causare danni o angoscia alle persone coinvolte. Condividendo le nostre esperienze e le lezioni apprese, possiamo aiutare gli altri a comprendere l'importanza di considerare i limiti, il consenso e le potenziali conseguenze prima di cimentarsi in battute pratiche. Collaboriamo con organizzazioni che si concentrano sull'intrattenimento responsabile e sulla commedia per creare campagne educative. Possiamo sviluppare contenuti che evidenzino i potenziali rischi e forniscano linee guida per un umorismo sicuro e piacevole. Possiamo anche condividere storie e testimonianze di persone che hanno sperimentato barzellette pratiche andate male, sottolineando l'impatto emotivo e psicologico che può avere sulle persone. Per noi è fondamentale incoraggiare conversazioni aperte sull'umorismo responsabile e creare una cultura che promuova l'empatia, la comprensione e il rispetto. Inoltre, possiamo utilizzare la nostra piattaforma per supportare le organizzazioni che forniscono risorse e supporto alle persone colpite da scherzi pratici andati male. Ciò può includere organizzazioni focalizzate sulla salute mentale, sul supporto ai traumi e sui diritti delle vittime. Sfruttiamo la nostra influenza per collaborare con comici e intrattenitori che condividono i nostri valori. Insieme, possiamo creare contenuti e iniziative che promuovono un umorismo responsabile e sensibilizzano sui potenziali rischi connessi. Possiamo anche interagire con il nostro pubblico, e incoraggiarlo a condividere le proprie storie e punti di vista su barzellette pratiche. Questo può favorire un senso di comunità e incoraggiare un umorismo responsabile tra i nostri fan. Usando la nostra fama per uno scopo che va oltre l'intrattenimento, possiamo avere un impatto duraturo e contribuire a una cultura comica più ponderata e compassionevole. Sono grato di avere l'opportunità di fare la differenza, John. Sfruttiamo la nostra piattaforma per promuovere l'umorismo responsabile e sostenere coloro che sono stati colpiti da barzellette finite male. Insieme, possiamo sensibilizzare, promuovere l'empatia e contribuire a creare uno spazio più sicuro e inclusivo per la commedia. Con il nostro impegno condiviso, possiamo usare la nostra influenza per garantire che gli scherzi pratici siano affrontati in modo responsabile, e che tutte le persone coinvolte possano vivere un'esperienza positiva e piacevole. Anna, ho un'idea. Organizziamo un evento di beneficenza in cui possiamo eseguire sketch comici per raccogliere fondi per un'organizzazione locale. È un modo per usare le nostre abilità comiche e per avere un impatto positivo sulla nostra comunità. È un'idea fantastica, John. Combina la nostra passione per la commedia con il nostro desiderio di aiutare gli altri. Organizzare un evento di beneficenza ci consentirà di coinvolgere il nostro pubblico sostenendo al contempo una causa significativa. Esattamente. Possiamo selezionare un'organizzazione locale che sia in linea con i nostri valori e abbia un impatto significativo sulla comunità. Potrebbe trattarsi di un ente di beneficenza che si occupa dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria o di qualsiasi altra causa che ci sta a cuore. Pianifichiamo una serie di sketch comici che mettano in mostra il nostro umorismo e la nostra creatività. Possiamo incorporare elementi di improvvisazione, scenette basate sui personaggi e dialoghi spiritosi per intrattenere il pubblico. Sarebbe fantastico coinvolgere altri comici e artisti che condividono la nostra passione per fare una differenza positiva. La collaborazione con persone che la pensano allo stesso modo può aggiungere diversità e profondità all'evento. Dovremmo inoltre garantire che l'evento sia inclusivo e accessibile a tutti. È importante scegliere un luogo che accolga un pubblico diversificato e che offra opzioni per le persone con disabilità. Assolutamente. Sfruttiamo la nostra piattaforma e la nostra presenza sui social media per far conoscere l'evento di beneficenza. Possiamo creare video promozionali, condividere contenuti dietro le quinte e incoraggiare i nostri follower a partecipare e a fare donazioni. Durante l'evento, possiamo condividere informazioni sull'organizzazione che supportiamo, evidenziando il loro lavoro e la differenza che fanno nella comunità. Ciò contribuirà a sensibilizzare e ispirare gli altri a partecipare. E, naturalmente, l'obiettivo principale è raccogliere fondi per l'organizzazione. Possiamo organizzare stand per le donazioni, campagne di raccolta fondi online e persino mettere all'asta esperienze speciali o memorabilia per generare donazioni. È importante creare un'atmosfera gioiosa ed edificante durante l'evento. La risata è uno strumento potente, e offrendo un'esperienza divertente e memorabile, possiamo incoraggiare i partecipanti a donare generosamente. Colliamo l'occasione anche per ringraziare il pubblico ed esprimere la nostra gratitudine per il sostegno. La loro presenza e il loro contributo faranno una differenza significativa nella vita delle persone colpite dall'organizzazione locale. Dopo l'evento, possiamo condividere gli aggiornamenti e l'importo finale raccolto con il nostro pubblico, mostrando l'impatto della loro generosità. È importante mantenere lo slancio e mantenere la trasparenza. Organizzare un evento di beneficenza non solo raccoglierà fondi per una causa meritevole, ma ci consentirà anche di entrare in contatto con il nostro pubblico a un livello più profondo. Possiamo ispirare anche gli altri a utilizzare i loro talenti e le loro piattaforme per avere un impatto positivo. Sono entusiasta del potenziale di questo evento di beneficenza, John. Insieme, possiamo creare un'esperienza indimenticabile che porti risate, gioia e sostegno alla nostra comunità. Facciamo la differenza attraverso la commedia. Anna, nonostante le controversie che abbiamo affrontato, sono grata che il nostro rapporto rimanga forte. Siamo stati in grado di affrontare le sfide insieme e di sostenerci a vicenda in tutto questo. Assolutamente, John. La nostra capacità di trovare umorismo anche nelle situazioni più difficili è stata fondamentale. Le risate sono state la nostra ancora, ricordandoci l'amore e la gioia che condividiamo. La nostra capacità di farci ridere a vicenda è stata una tale fonte di forza e connessione. Ci ricorda che qualunque cosa accada, possiamo sempre trovare conforto e felicità nella presenza reciproca. Ti sono grato per il tuo sostegno incrollabile, John. Anna. Sei stato il mio punto di riferimento in tutto questo tempo, e il tuo senso dell'umorismo mi ha tenuto con i piedi per terra e sollevato. E tu, Anna, sei stata la mia costante fonte di ispirazione. Le tue risate e il tuo atteggiamento positivo mi ricordano l'importanza di abbracciare la gioia e trovare l'umorismo in ogni situazione. La nostra capacità di farci ridere l'un l'altro è una testimonianza del profondo legame che condividiamo. È un dono che amiamo e coltiviamo nella nostra relazione. Nonostante le sfide e le controversie, siamo rimasti fedeli a noi stessi e gli uni agli altri. Il nostro impegno verso l'empatia, la comprensione e il rispetto ci ha aiutato a superare la tempesta. E non dimentichiamo l'importanza della comunicazione aperta. Siamo stati in grado di discutere dei nostri sentimenti, imparare dai nostri errori e crescere insieme. La nostra capacità di avere conversazioni difficili con umorismo e amore è stata fondamentale nel nostro viaggio. Attraverso tutto questo, abbiamo imparato il valore della resilienza e il potere della risata come forza curativa. È ciò che ci ha fatto andare avanti e ci ha permesso di continuare a creare contenuti che portino gioia agli altri. La nostra capacità di trovare umorismo nella nostra vita ci ha anche aiutato a rimanere con i piedi per terra e a non prenderci troppo sul serio. Ci ricorda che la vita è fatta per essere goduta, anche di fronte alle sfide. Quindi, mentre andiamo avanti, continuiamo a farci ridere l'un l'altro, a sostenerci a vicenda e a creare contenuti che diffondano gioia e positività. La nostra relazione è la base che alimenta la nostra creatività e ci consente di fare la differenza. Assolutamente, John. Insieme, possiamo affrontare qualsiasi tempesta e continuare a portare risate e amore nel mondo. La nostra relazione è una testimonianza del potere dell'umorismo e della forza della nostra connessione. Anna, ho un'idea entusiasmante. Creiamo un canale YouTube dedicato alla condivisione dei nostri momenti divertenti e spensierati. È una piattaforma in cui possiamo diffondere risate e positività a un pubblico più ampio. Sembra fantastico, John. Adoro l'idea di usare YouTube per entrare in contatto con le persone, e rallegrare la loro giornata attraverso il nostro umorismo e la nostra gioia. È un'opportunità per condividere la nostra prospettiva unica e creare contenuti interessanti per gli altri. Esattamente. Possiamo documentare le nostre avventure, condividere aneddoti divertenti e creare sketch comici che mettano in risalto la nostra chimica e il nostro senso dell'umorismo. Il nostro canale YouTube può diventare un centro di risate e intrattenimento. Possiamo anche coinvolgere il nostro pubblico nel processo, incoraggiandolo a partecipare alle sfide, suggerendo idee per scenette e impegnandosi in contenuti interattivi. Sarà un modo per costruire una comunità incentrata sulla positività e sulle risate. Facciamo in modo che il nostro canale YouTube rifletta i nostri valori e promuova un umorismo responsabile. Possiamo usare la piattaforma per sottolineare l'importanza del consenso, del rispetto e dell'inclusività nella commedia. Assolutamente. Vogliamo che i nostri contenuti siano uno spazio sicuro e piacevole per tutti. Creando momenti divertenti e spensierati, possiamo promuovere un senso di connessione e diffondere gioia tra i nostri spettatori. Possiamo anche utilizzare il nostro canale YouTube per evidenziare cause e organizzazioni che ci stanno a cuore. Proprio come il nostro evento di beneficenza, possiamo sensibilizzare e sostenere varie iniziative di beneficenza. È essenziale mantenere l'autenticità e mostrare la nostra autenticità sul nostro canale YouTube. Essendo vulnerabili e condividendo le nostre storie personali, possiamo favorire una connessione più profonda con il nostro pubblico. Collaboriamo anche con altri creatori che condividono i nostri valori e hanno uno stile comico simile. Lavorando insieme, possiamo creare contenuti ancora più dinamici e divertenti per i nostri spettatori. E non possiamo dimenticare il potere della risata come forma di guarigione. Il nostro canale YouTube può essere una fonte di confort e di fuga per chi sta attraversando momenti difficili. Le risate hanno davvero un modo per sollevare il morale. Sono entusiasta di questa nuova avventura, Anna. Cogliamo l'opportunità di far ridere le persone, rallegrare la loro giornata e creare un impatto positivo attraverso il nostro canale YouTube. Anch'io, John. Intraprendiamo questo viaggio insieme, condividendo i nostri momenti divertenti e spensierati con il mondo. Credo che la nostra chimica, e il nostro senso dell'umorismo unici possano portare gioia e risate a innumerevoli persone. Anna, è incredibile vedere come il nostro canale YouTube sia cresciuto in popolarità. Il nostro umorismo e la nostra autenticità hanno conquistato le persone e abbiamo attirato una base di fan fedeli che apprezzano ciò che facciamo. È davvero commovente, John. Il sostegno e l'amore che riceviamo dai nostri telespettatori sono travolgenti. È una conferma del duro lavoro che abbiamo dedicato alla creazione di contenuti che portino risate e positività. I nostri fan non solo apprezzano il nostro umorismo, ma si connettono anche con noi a un livello più profondo. Apprezzano la nostra autenticità e il legame genuino che condividiamo. È incredibile vedere come le risate possano unire le persone. Sono grato ai nostri fan, che sono diventati parte integrante del nostro viaggio. I loro commenti, messaggi e interazioni ci ricordano l'impatto che abbiamo sulle loro vite. È una responsabilità che abbiamo a cuore. Per noi è importante rimanere fedeli a noi stessi e continuare a creare contenuti in linea con i nostri valori. La nostra fedele base di fan apprezza la nostra autenticità e dobbiamo a loro continuare a offrire l'umorismo e la gioia di cui godono. La nostra vera connessione è la nostra capacità di far ridere gli altri. Continuiamo a coltivare e coinvolgere la nostra base di fan. Mostriamo anche il nostro apprezzamento ai nostri fan coinvolgendoli nei nostri contenuti. Possiamo organizzare sessioni di domande e risposte, sfide per i fan e persino incontri in cui possiamo entrare in contatto con loro faccia a faccia. Il loro sostegno merita un riconoscimento. Costruire una community forte attorno al nostro canale è essenziale. Promuoviamo un ambiente positivo e inclusivo in cui i nostri fan possano entrare in contatto tra loro, condividere i loro momenti divertenti e diffondere gioia. E man mano che il nostro canale cresce, sfruttiamo la nostra piattaforma per supportare cause e organizzazioni importanti per noi e per la nostra fan base. Possiamo usare la nostra influenza per avere un impatto significativo che vada oltre il semplice intrattenimento. I nostri fan sono entrati a far parte della nostra famiglia allargata ed è importante coltivare questo legame. Interagendo attivamente con loro e ascoltando il loro feedback, possiamo continuare a migliorare ed evolvere i nostri contenuti. Sono grata per il viaggio che abbiamo intrapreso, Anna. La nostra fedele base di fan è una testimonianza del potere dell'umorismo e dell'autenticità. Continuiamo a farli ridere, a portare gioia nella loro vita e a creare contenuti che siano in sintonia con loro. Insieme, con la nostra meravigliosa fan base, possiamo continuare a diffondere risate e positività. Il nostro canale non riguarda solo noi, ma anche la community che abbiamo creato. Continuiamo a farli ridere e a ricordare loro che sono una parte essenziale del nostro successo. Anna, ho una proposta entusiasmante. Collaboriamo con altri comici famosi e creiamo video virali insieme. È un'opportunità per unire i nostri talenti e creare contenuti che raggiungano un pubblico più ampio. Sembra fantastico, John. Collaborare con altri comici non solo porterà nuove prospettive e stili comici, ma ci esporrà anche ai loro fan. È una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. Collaborando, possiamo attingere a un pubblico più vasto che altrimenti non avrebbe scoperto i nostri contenuti. È un'occasione per presentarci a nuovi spettatori e creare contenuti che vanno oltre ciò che potremmo fare individualmente. Contattiamo i comici di cui ammiriamo il lavoro e vediamo se sono interessati a collaborare. Che si tratti di sketch comici, improvvisazioni o sfide comiche, possiamo creare video che mettano in mostra la nostra creatività e il nostro umorismo collettivi. Dovremmo anche considerare il potenziale di video virali. Combinando i nostri talenti comici con quelli di altri comici famosi, possiamo creare contenuti che hanno maggiori possibilità di catturare l'attenzione di un pubblico più ampio. I video virali hanno il potenziale per catapultare il nostro canale verso nuove vite. La maggiore visibilità può attirare più spettatori ai nostri contenuti e aiutarci a entrare in contatto con ancora più persone attraverso le risate. Facciamo in modo che le nostre collaborazioni siano autentiche e biologiche. È importante trovare comici i cui stili e valori comici siano in linea con i nostri. L'autenticità è fondamentale per creare contenuti che siano in sintonia con il nostro pubblico. Possiamo anche imparare molto da altri comici attraverso la collaborazione. È un'opportunità per crescere e ampliare i nostri orizzonti comici. Possiamo scambiarci idee, tecniche e approfondimenti che possono elevare i nostri contenuti nel loro insieme. E non dimentichiamo il divertimento e la gioia che derivano dalla collaborazione con persone che la pensano allo stesso modo. L'energia e la chimica che derivano dal lavorare insieme possono dare vita a momenti memorabili ed esilaranti per i nostri spettatori. Poiché collaboriamo con altri comici famosi, è fondamentale mantenere la nostra voce e il nostro stile unici. Sebbene possiamo adattarci e sperimentare nuovi approcci, è importante rimanere fedeli a noi stessi, e a ciò che il nostro pubblico ama di noi. Le nostre collaborazioni possono anche fungere da piattaforma per amplificare messaggi e cause importanti. Lavorando con comici appassionati di questioni sociali, possiamo creare contenuti che educano, sensibilizzano e stimolano conversazioni significative. Sono davvero entusiasta del potenziale di queste collaborazioni, John. Insieme ad altri comici famosi, possiamo creare un effetto a catena di risate e positività che si diffonde in lungo e in largo. Assolutamente, Anna. Contattiamo comici, creiamo contatti e creiamo video virali che facciano ridere le persone e portino gioia nella loro vita. Le nostre collaborazioni hanno il potere di avere un impatto significativo nel mondo della commedia e non solo. Insieme, con l'aiuto di altri noti comici, possiamo creare contenuti che risuonino con un pubblico più ampio, e continuino a portare risate e felicità nel mondo. Intraprendiamo questo viaggio emozionante e vediamo dove ci portano queste collaborazioni. Anna, riesci a crederci? La nostra storia viene adattata in una spensierata commedia romantica. Questo va oltre ogni cosa che avremmo potuto immaginare. Sono senza parole, John. È incredibile pensare che il nostro viaggio insieme abbia avuto un eco tale da meritare un adattamento cinematografico. Questo creerà ancora più entusiasmo intorno alla nostra relazione e all'umorismo che condividiamo. Il film ci darà l'opportunità di mostrare la nostra storia d'amore in un modo nuovo e divertente. È l'occasione per portare la nostra chimica e il nostro umorismo unici sul grande schermo, affascinando il pubblico con le nostre risate e il nostro romanticismo. Sono entusiasta di vedere come verrà rappresentata la nostra storia nel film. È un'occasione per rivivere i nostri momenti più divertenti e commoventi, e sarà un promemoria dell'amore e della gioia che abbiamo condiviso durante il nostro viaggio. E immaginate l'impatto che il film avrà sulla nostra fanbase e non solo. Presenterà la nostra storia e il nostro umorismo a un pubblico più ampio, diffondendo risate e positività su scala più ampia. È incredibile come la nostra relazione, e le risate che abbiamo condiviso possano ispirare gli altri. Il film sarà l'occasione per toccare il cuore delle persone, farle ridere e ricordare loro il potere dell'amore e dell'umorismo. Facciamo in modo che il film catturi l'essenza della nostra relazione e la spensieratezza che ha definito il nostro viaggio. Dovrebbe essere un film piacevole che lasci il pubblico sorridente e sollevato. Assolutamente. Il film dovrebbe riflettere i nostri valori di empatia, comprensione e rispetto. È un'opportunità per mostrare una relazione sana, e solidale che può ispirare gli altri nella propria vita. Dovremmo anche essere coinvolti nel processo di realizzazione del film, fornendo il nostro contributo e assicurandoci che la nostra storia sia rappresentata in modo autentico. La nostra esperienza diretta e le nostre intuizioni saranno preziose per cogliere l'essenza della nostra relazione. Sono grato per l'opportunità di condividere la nostra storia in questo modo, John. È un'occasione per diffondere risate, amore e gioia a un pubblico ancora più ampio. La nostra relazione è diventata un'ispirazione e questo film lo amplificherà. Abbracciamo questo nuovo capitolo e godiamoci il viaggio di vedere la nostra storia prendere vita sul grande schermo. Il film sarà una celebrazione del nostro amore, delle nostre risate e dell'incredibile legame che abbiamo costruito insieme. Non avrei potuto chiedere un partner migliore con cui condividere questo straordinario viaggio, John. La nostra spensierata commedia romantica sarà una testimonianza del potere dell'amore, dell'umorismo e del legame che abbiamo coltivato. Insieme, continueremo a portare risate e gioia al mondo, sia attraverso il nostro canale YouTube, le collaborazioni o ora, l'adattamento cinematografico della nostra storia. Il nostro amore e il nostro umorismo sono infiniti e non vedo l'ora di vedere dove ci porterà questa avventura. Conserviamo le risate e continuiamo a diffonderle ovunque andiamo. La nostra storia, ora sul grande schermo, toccherà il cuore di molti, e ricorderà a loro la bellezza e la felicità che si possono trovare nell'amore e nell'umorismo. Anna, ci sono le recensioni per il nostro film e sembra che l'accoglienza sia mista. Alcune persone lodano l'umorismo e la spensieratezza, mentre altri lo criticano perché banalizza situazioni gravi. C'erano da aspettarsi recensioni contrastanti, John. La nostra storia e il nostro umorismo potrebbero non piacere a tutti allo stesso modo. È importante ricordare che la commedia è soggettiva e le persone hanno punti di vista diversi su ciò che dovrebbe essere trattato con spensieratezza e su ciò che dovrebbe essere preso più seriamente. Hai ragione, Anna. La commedia è sempre stata un'arma a doppio taglio. Sebbene possa portare gioia e risate, può anche essere vista come insensibile o banalizza determinati problemi. Dobbiamo prendere queste critiche in modo costruttivo e riflettere su come possiamo trovare un migliore equilibrio nei nostri contenuti. È fondamentale per noi ascoltare i feedback, sia positivi che negativi. Possiamo sfruttare questa opportunità per crescere come comici e creatori. Possiamo imparare dalle critiche e trovare modi per affrontare situazioni gravi con sensibilità, pur mantenendo la spensieratezza che definisce il nostro stile. Assolutamente, Anna. Non abbiamo mai voluto banalizzare le situazioni gravi, ma è chiaro che alcuni telespettatori l'hanno percepita in questo modo. Dobbiamo essere più attenti all'impatto che i nostri contenuti possono avere e assicurarci di affrontare argomenti delicati con empatia e rispetto. Sfruttiamo questa opportunità per avere conversazioni aperte con il nostro pubblico e i nostri critici. Impegnandoci nel dialogo, possiamo comprendere meglio le loro preoccupazioni e prospettive. È importante dimostrare che siamo ricettivi ai feedback e impegnati a migliorare. Possiamo anche cogliere l'occasione per diversificare i nostri contenuti ed esplorare diversi stili comici che ci consentono di affrontare questioni serie in modo più sfumato e ponderato. La commedia può essere un potente strumento di commento sociale e dovremmo sforzarci di utilizzarla in modo responsabile. Assolutamente, John. Questa esperienza ci aiuterà a crescere come comici e creatori. Possiamo continuare a far evolvere i nostri contenuti incorporando i feedback, ampliando i nostri orizzonti comici e trovando nuovi modi per far ridere, pur essendo consapevoli dell'impatto che abbiamo. Non lasciamoci scoraggiare dalle recensioni contrastanti. La commedia è soggettiva ed è impossibile accontentare tutti. Ciò che conta di più è rimanere fedeli a noi stessi, imparare da questa esperienza e continuare a creare contenuti che portino gioia, risate e, soprattutto, rispettino le diverse prospettive del nostro pubblico. Abbiamo una base di fan fedeli che apprezza il nostro umorismo e la nostra autenticità, e dobbiamo loro continuare a farli ridere pur essendo consapevoli delle preoccupazioni sollevate. Insieme al nostro pubblico, possiamo navigare tra queste recensioni contrastanti e trovare un equilibrio che riscuota il favore di una gamma più ampia di persone. Il nostro viaggio non finisce con questo film. È un trampolino di lancio per un'ulteriore crescita e apprendimento. Cogliamo l'occasione per riflettere, adattarci e continuare a portare risate e gioia ai nostri fan, affrontando allo stesso tempo argomenti seri con la sensibilità che meritano. Il nostro impegno nei confronti del nostro pubblico, e l'impatto che abbiamo sulla vita delle persone dovrebbero essere sempre al primo posto nelle nostre menti. Possiamo imparare da questa esperienza e usarla per creare contenuti che non solo intrattengano, ma anche elevino e rispettino le diverse prospettive dei nostri spettatori. Anna, nonostante le recensioni contrastanti, non posso fare a meno di sentirmi grata per il successo del nostro film. Ha suscitato scalpore intorno a noi e alle nostre carriere comiche. Non lasciamo che le critiche ci scoraggino, ma sfruttiamo invece questa opportunità per promuovere la nostra crescita e il nostro successo. Assolutamente, John. Abbiamo lavorato duramente per costruire la nostra carriera comica, e il successo del film è una testimonianza della nostra dedizione, e del legame che abbiamo creato con il nostro pubblico. Non dovremmo lasciare che la negatività oscuri l'impatto positivo che abbiamo avuto. Il film ci ha dato una piattaforma per raggiungere ancora più persone con il nostro umorismo e le nostre risate. Possiamo sfruttare questo successo per espandere la nostra portata, esplorare nuove opportunità e entrare in contatto con un pubblico più ampio che apprezza il nostro stile comico. Concentriamoci sul feedback positivo che abbiamo ricevuto e sul supporto dei nostri fedeli fan. Sono quelli che sono stati con noi durante il nostro viaggio, ridendo con noi e supportandoci. Il loro supporto è ciò che conta di più. Assolutamente, Anna. I nostri fan ci hanno dimostrato più volte che apprezzano il nostro umorismo e la nostra autenticità. Abbiamo il dovere di continuare a creare contenuti che siano in sintonia con loro e che portino gioia alla loro vita. Il successo del film apre anche le porte a nuove opportunità. Possiamo esplorare diversi mezzi, come la televisione, le esibizioni dal vivo o persino scrivere le nostre serie comiche. Le possibilità sono infinite e abbiamo il talento e la voglia di sfruttarle al meglio. Non lasciamoci scoraggiare dalle critiche, ma usiamole invece come carburante per migliorare ed evolverci come comici. Possiamo tenere conto del feedback costruttivo e migliorare ulteriormente i nostri progetti futuri, assicurandoci di affrontare argomenti seri con la sensibilità che meritano. La nostra resilienza e determinazione saranno fondamentali per andare avanti. Non permetteremo che le opinioni di pochi oscurino l'impatto positivo che abbiamo avuto su così tante persone. Il nostro successo parla da sé e continueremo a far ridere le persone e diffondere gioia. Il nostro viaggio è tutt'altro che finito, Anna. Abbiamo dimostrato di essere comici di talento e il successo del film è solo un trampolino di lancio verso traguardi ancora più grandi. Cogliamo le opportunità che ci si presentano e continuiamo a lasciare il segno nel mondo della commedia. Insieme, siamo una forza da non sottovalutare. Ci copriamo le spalle a vicenda, e abbiamo il supporto della nostra fanbase devota. In questo modo, possiamo superare qualsiasi ostacolo e sfruttare il successo del film come trampolino di lancio per raggiungere traguardi ancora più alti nelle nostre carriere comiche. Restiamo concentrati, positivi e fedeli a noi stessi. La nostra passione per la commedia e per portare risate nella vita delle persone ci guiderà avanti. Il successo del film è solo l'inizio e non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro, Anna. Anch'io, John. Accogliamo questo nuovo capitolo con entusiasmo, e continuiamo a far ridere la gente. Il nostro viaggio è appena iniziato e insieme raggiungeremo ancora più successi e porteremo gioia a innumerevoli altri cuori. Anna, non posso credere che stiamo per partire per un tour comico nazionale. Questa è un'incredibile opportunità per entrare in contatto con i nostri fan a un livello più personale e portare la nostra miscela unica di umorismo e narrazione al pubblico dal vivo. È un sogno che si avvera, John. Eseguire spettacoli dal vivo ci permette di interagire con i nostri fan in un modo completamente nuovo. Possiamo condividere le nostre storie, le nostre battute e le nostre risate direttamente con loro, creando un'esperienza indimenticabile che va oltre lo schermo. Gli spettacoli dal vivo ci daranno la possibilità di mostrare la nostra chimica comica e la nostra energia dinamica sul palco. Possiamo interagire con il pubblico, improvvisare e creare momenti spontanei che renderanno ogni spettacolo unico e memorabile. Sono entusiasta di vedere come le nostre battute e le nostre storie prendono vita davanti a un pubblico dal vivo. L'energia nella stanza, le risate e il feedback immediato saranno esaltanti. È un'opportunità per affinare il nostro tempismo comico e entrare in contatto con le persone in tempo reale. E l'aspetto narrativo dei nostri spettacoli dal vivo ci consentirà di approfondire il legame con i nostri fan. Possiamo condividere aneddoti, approfondimenti e persino momenti dietro le quinte più personali, creando un senso di intimità e autenticità che è difficile raggiungere con altri mezzi. Assolutamente, John. I nostri fan ci hanno accompagnato durante il nostro viaggio, e gli spettacoli dal vivo saranno l'occasione per ringraziarli per il loro supporto. Possiamo partecipare a sessioni di domande e risposte, incontrarci e creare un senso di comunità in cui si sentano parte della nostra famiglia comica. Usiamo anche gli spettacoli dal vivo come un'opportunità per sperimentare e provare nuovo materiale. Possiamo esplorare diversi stili comici, incorporare nuove barzellette e allargare i confini della nostra creatività. È un'occasione per crescere ed evolversi come comici. Adoro quell'idea, John. Gli spettacoli dal vivo possono essere un banco di prova per nuovo materiale e idee. Possiamo valutare le reazioni del pubblico, affinare le nostre battute e ottenere informazioni preziose che ci aiuteranno a sviluppare ulteriormente la nostra arte comica. E non dimentichiamo la gioia e l'appagamento che proveremo facendo ridere le persone di persona. Le risate sono contagiose e l'energia di un pubblico dal vivo ci alimenterà e ci ispirerà a dare la nostra migliore performance ogni sera. Non potrei essere più d'accordo, John. Far ridere la gente è un dono e poterlo fare dal vivo, faccia a faccia, è un privilegio. Abbiamo il potere di rallegrare la giornata di qualcuno, risollevare il morale e creare momenti che apprezzeranno molto tempo dopo la fine dello spettacolo. Il nostro tour comico nazionale è una testimonianza del nostro duro lavoro, della nostra dedizione e dell'amore che abbiamo per la commedia. Cogliamo questa opportunità, godiamoci ogni momento sul palco e continuiamo a diffondere risate e gioia al pubblico di tutto il paese. Insieme, creeremo esperienze indimenticabili, creeremo legami più profondi con i nostri fan, e daremo vita alla nostra miscela unica di umorismo e narrazione. Questo tour comico è solo l'inizio di un nuovo capitolo della nostra carriera e non vedo l'ora di condividerlo con te, John. Anna, il nostro tour comico è stato pieno di momenti inaspettati ed esilaranti. È incredibile come ogni città che visitiamo porti esperienze e storie uniche che possiamo incorporare nel nostro repertorio. Assolutamente, John. Sono queste situazioni divertenti, e a volte controverse che aggiungono sapore ai nostri spettacoli. Gli incontri inaspettati non solo rendono le nostre esibizioni più divertenti, ma ci forniscono anche materiale fresco per mantenere la nostra commedia dinamica e pertinente.